Vibonati, Salerno, dopo il rinvio del concerto di Franco Ricciardi al prossimo 4 settembre, causa maltempo. Riprendono gli eventi culturali, questa sera a Vibonati, ore 22 presso Chiostro Museo Logos Musica dell'Anima, concerto Jazz, con Rossella Carrieri e Lucio D'Amato. Sempre questa sera a Vibonati, Cortile Casa Furiati, ore 21 e 30 vita ed opere dell'abate Domenico Furiati.